15 win, 10 partite rimaste, obiettivo oro 1, che sarebbe meglio della scorsa settimana, piccoli change alla scorretta, io spero solo che Obama e Young possa resistere queste 10 partite, poi prenderai il volo amico mio. Ice LFC, Obama e Young Rashford, stesso attacco mio, stesso modulo mio, cambia solo che lui c'è la azzarda a sinistra e va al verde, va a run, walker, ederson if, che Dio me la mandi veramente buona. Oh, nooo me ne ero nato, me ne ero nato, come cazzo me l'ha tolta sto trimone? Che palle parane walker, c'ho già 4 malattie diverse, la mousse, chiedi l'1-2, la ridai lì, la ridai là, e poi dove cazzo vai, tocca a rindarli indietro, tocca a gestire, tocca, poi la ridai lì, poi fai la finta. Ah si, sto cercando a aprirlo come una cozza, ma è tutto chiuso per lui, ah si, Obama Young, nooo, ridai là dentro come esce, porca madonna, dai Obama, incrocia bene lì, che sono bagati, oh altro lato, Rashford, proprio lui, proprio lui, sempre lui, Marcus, Rashford, la punta di diamanti di questo calipuoco team, che ha preso, ma che ha preso, no, no, ragazzi, ma io ho tirato un cannolo siciliano, oh, mamma mia, ma la squadra mia cosa sta facendo, cosa sta facendo, un po' di ping pong, oh, Marcus, dove questa volta Ederson non può arrivare, bellissimo, ti aspetto qui, ti aspetto, è pure mia, no, è sua, ci ho approvato, sono giuventino, ci sarà un motivo, dai, dai, ma perché, a loro glieli fischia, spalla, è sempre sua, è sempre sua, è sempre sua, 45esimo con 3 minuti di recupero, EA Sports, it's the game, it's the game, it's the game, it's the game, mus, mus, aia, ma da dietro cosi, porco dio, mi ha spaccato il cocige, è volato, ci ha messo un bappé in prestito, ha messo un bappé in prestito e la dama traurè, io non posso giocarmela carta adesso di un bappé, eh, qua va a finire male, un po' di inventiva, un po' di inventiva, ma è che passa, oh, porco dio, oh, sono figlio di puttana, sono figlio di troia, del cavallo di Grecia, zi, ma perché non l'ho tirato dritto? Ma che me son vettato? Ma che me son vettato? Mi chiamavano il geometra? Sono un ardo da vinci? Sono un ardo da vinci? Ciao bello, se siamo visti, ciocca la bagnotella, va, uff, un game all'oro 2, allora, game per oro 2, Seriskia, Galatasaray, Turco, Ziyech, Adama Traurè, Sané, Royce, Erbrandino, Laporte, no, chi è quel Bacchil in difesa che non mi viene il nome, il difensore centrale, oh, Gesù, andiamo rotti qua. Allora qua, se andiamo in difficoltà, si mette subito un bappé, questo game già smella a merda, sto cercando a trovare il buchetto, niente, c'è sì, questo sta con uno dei profondi tazzi, cioè questo è uno dei profondi tazzi dell'88, il turco dell'88, è gol, è finita per me. Lo senti? Lo senti? Lo senti, Rashford? Che ti chiama il telefono? Mi sono inceppato? Se mi fai il kick-off glitch succede un casino, eh. No, eh. No, eh. No, eh. No, 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 se sta aprì tutta la squadra, regà, se sta aprì come una cozza, se apri tutta, pare, pare le donne, pare le persone che incontri per strada quello a pagamento, quelle che fanno i servizietti o quelli che fanno i servizietti. Io col cazzo però che segno di kick-off, porco il vostro bastardo Dio! Ma cosa porco Dio fai? Io l'ho levata ieri tornata, allora Dio, eh. Primo tempo. Un primo tempo! Un primo tempo! Che ha visto fare due tiri questo ragazzo! Tutti e due in un'azione di kick-off glitch! Ma cosa si è inventato? Ma che ti inventi? Architetto mio! Guarda che bugio di culo! Sono un pezzo di merda! Sono un pezzo di merda io! Sono un figlio della merda! Io l'ho ripassata! Ragazzi! È arrivato quel momento! Mbappé in prestito! Mbappé che me se magna quel gol! Ma non vuole fischiare? Niente, regà, però io, porco Dio, ma che cazzo di gioco devo giocare? Fischiii! Fischiii! Porco Dio! Rigore! Me lo tira centrale anche lui? No! Uff! Mazzimin! Freddo! Porco Dio! Bello Rushford! GG! Uff! L'ho tirato a destra! Me lo ritiro a destra! Palo gol! Fammi vedere la squadra di questo, va! Altro che in Foro 2! Altra mezza Bundesliga! Ma avete rotto il cazzo! Gambino! Ma che è sto buco? Che è sto buco così? E' il Grand Canyon! Lì in mezzo! Cioè questo gioca con Gureesca! È regolare! Bravo! Bravo Piero! Dai! Mamma mia Massimino! Sfondala con la porta! Bravo! Dai! Il Santino! Su! Dai ragazzi! Non ci abbattiamo! Non ci dobbiamo abbattere! È quello che vuole il gioco! Dovemo tenere testa! Dovemo tenere botta! Duro! Duro e crudio! Cioè l'englet non c'è... Ma l'englet! È nella linea di passaggio! Sette volte! Sì! Ma allunga un piede! Guarda che buco! Ma perché c'è sto buco? E che te devo dire? Sì! E che te devo dire? Guarda! Ripartenza c'è una voragine! Che te devo dire? Siamo di nuovo! Qui! Per fare il terzo game per oro 2! Ciccio Team! Proprio lui! Con la mia stessa difesa! Che andrà! Per qualche strano motivo! 10x è la mia difesa! Ecco! Guarda Obama Young come me lo mette! Che te devo dire? Bravo! Eh! Che cazzo che devo dire? Ma che è sto buco? E finisce qua! Io l'ho detto! Tocca punta oro 1! Partono le scommesse! Quante le loro perde? Quante? Eravamo partiti tanto bene! Poi niente! È arrivato il game per oro 2! Osimano! Achimi! Manolas Pulibali! Insigne! Milinkovi! Cif! Che te devo dirci? Mandano la bonazi! Guardano! Bello! Dai! Dai! Per favore! Metteteci la grinta! Loro 1 era il nostro obiettivo! E loro 1 se dove manda prende! Massimino! Il santino! Il santino! Me lo porto qua nel cuore! No! Ma chi? È una percezione mia! È qui! Dentro la mia testa! Netto! Netto! Bruttissimo! Brutto! 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 Fre! Fre! Si gode! Si goda spruzzo! È tutto qua nella vostra testa! È una percezione! Vabbè c'è stato! Dopo il gol che abbiamo fatto noi io doveva da un'altra cosa! C'è posto o sta? C'è posto! Guarda! Ma non è un'altra della CPU! Che si è inventato! Carci di rigore! Un'altra carci di rigore! Ma salvami! Ma salvami! 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 Salvami da sto videogame! Bravo! Bacambubu! Freddo! Glaciale! Mamma mia! Mamma mia! Dove l'ha messa Massimino? Ma non so se basterà! Non è che me lo tira centrale! Cor cazzo! Uff! Golò! Il capitano! Bravo Mendy! Sotto l'incrocio! Niente! Sì! Niente! Niente! Bravo Gomez! Ce la faccio più sto a morire! Sì! Dai! Storo 2! Santa Maria del Succhero! Succhero! C'è voluto i 3 game! E andà a oltranza di 97 rigori! 97 come il numero dell'anno di nascita mio! Come le palle che mi sono cresciute! Un toro sono diventato! Ce l'ho così! Dai! Forse! Forse! Siamo riusciti a scavallare! E' il salto della guaglia! Sì! Allora! Una premier bagliata! Tra virgolette! Sonne! Richarlison! Aversa! Adama Traore! Smolling! Della! Della United! Dei tumori! Ah! Adama Traore! Che arriva! Ma il silenzio! No! E allora! E allora! E allora! E allora! E allora! Così ci piace! Passa attraverso! Olè! Niente regà! Non gli si leva! Cioè c'è poco la fa! Non gli si leva! Più che coprire le linee di passaggio non posso fa! Purtroppo ancora non mi hanno inventato il cazzo lungo 7 metri! Ah sì! Sono incopribili! Cioè sono incopribili! Non ci vanno! Non ci vanno! Non ci va la mia difesa! Fallo 1-2 la mia difesa non ci va! Next! Atronzi! Dembele, Llorente, Messi, Depay, De Jong, Walker, Kim, Spitzing, Rilluli a destra! Boh raga! Ormai non so più che dire! Ormai arso le mani! Corri, Piero! Corri, Piero! Corri, Piero! Corri, Piero! Corri, Piero! Piero! Dai! 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 Non ci abbattiamo! Non ci abbattiamo! Resistiamo! Un bacino! per questo ragazzo allora AC Sant'Alario come cazzo ti chiami c'ha una brasiliana praticamente Adam Acrope Rodrigo Fauninho Fred Alex Teixeira Militaupa mamma mia se può fa se può fa oh no la palla non vuole da uscirsi respira 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 oh esci portiere niente o è sempre sua guarda che la neve è sempre sua ma io cosa devo fa cosa devo fa next pandolf city boh non so che div raga non so che div bisogna solo sperare in Gesù Cristo che non esiste ma io cosa devo fa cosa devo fa per segnare vuol mangiato vuol subito la legge dello squillo di Gabriel Jesus che chiama la sua ragazza bravo Marcus dai 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 ragazzi due su due ne dovemo vince Marcus lo desidera lo vuole e lo prende vabbè sì mi madre non mi chiede se vuole da levare la palla non mi chiede se vuole da levare la fame sto colla madonna puttana ai rigori tocca andare un altro game ai rigori cioè io l'ho tirato centrale vabbè sì allora io non so non so Grazie a tutti. Grazie a tutti.